Ma prima, prima grazie per l'accoglienza che avete riservato al nuovo reparto di abbigliamento di backpacko. Reparto in cui sono spuntate proprio questa settimana le nuove camicie Alice di 511. Ragazzi, se non avete mai indossato una Alice, non avete mai goduto dell'estate. Ne ho prese letteralmente un pacco, le ho prese di tutti i colori, le ho messe in armadio, le sto vestendo tutti i giorni. Questo tessuto è incredibilmente leggero e traspirante, è microforato. Appena arriva una brezza leggerissima ve la sentite tutta addosso. Ma questa è la chicca sorprendente, i bottoni sembrano tutti cuciti, quindi anche molto eleganti, ma clic sono in realtà delle clip metalliche. Fantastico, quello che mi piace di più. Quindi direi che possiamo includere questa tra le camicie strappabili per gli interventi d'urgenza in estate, non si sa mai. Vi faccio un giro così ve la guardate tutta. La Alice a maniche corte è disponibile in tante varianti, ve le faccio vedere qui mentre ne parliamo, ma le trovate tutte ovviamente su backpacko.it. La vestibilità è un po' larga, è un po' comoda. Io porto una M adesso e di solito vesto una L, quindi scegliete pure con tranquillità una taglia più piccola di quella che vestite normalmente. E se poi quando arriva non vi sta bene, non siete bellissimi come vi meritate, beh il reso è gratuito, siete su backpacko. Vi lascio comunque qui sotto il link a tutto il reparto di abbigliamento di backpacko dove potete trovare anche le nuove t-shirt. E saremo sempre tutti più fighi vestendo i nostri nuovi vestiti tattici.